1520 Martin Lutero brucia pubblicamente la bolla papale exurge domino 1948 firmata a Parigi la dichiarazione universale dei diritti umani 1978 Sadat e Begin insigniti del premio Nobel per la pace commenta il fatto del giorno Emanuele Dessy direttore dell'Unione Sarda oggi ci piace parlare di Grazia Deledda Sarda unica donna a vincere un premio Nobel per la letteratura